Ciao ragazzi e benvenuti in questa seconda e ultima lezione sul parallelogramma. Nella lezione precedente abbiamo visto quali sono le proprietà che caratterizzano il parallelogramma, abbiamo visto che gli angoli adiacenti ad ogni lato sono supplementari, che il parallelogramma ha due diagonali che si dimezzano scambievolmente e che il parallelogramma ha due altezze, a seconda della base che si sceglie. Abbiamo poi visto una caratteristica fondamentale che ci servirà oggi per calcolare il suo perimetro, ossia i lati sono a coppie, paralleli e congruenti. Quindi per calcolare il perimetro sfrutteremo proprio questa caratteristica di avere i lati congruenti a coppie. Quindi andiamo a disegnare il nostro parallelogramma e andiamo a vedere come calcolare il perimetro. Allora, ecco il nostro parallelogramma e chiameremo L1 con scritto 1 in basso il primo lato, L2 il secondo. Noi sappiamo che sono congruenti a coppie, quindi DC è congruente ad AB e quindi anche lui sarà L1 e AD è congruente a CB, quindi sarà L2 anche lui. Allora, per andare a calcolare il perimetro, noi sappiamo che dobbiamo andare a sommare tutte le misure dei lati, ma è inutile andare a fare la somma di quattro lati perché sono congruenti a coppie, quindi scriveremo perimetro uguale aperta tonda, lato 1 più lato 2, chiusa tonda, per 2. Quindi questa sarà la formula per calcolare il perimetro del nostro parallelogramma. Quindi vado a sommare la coppia di lati consecutivi e poi moltiplico per 2, perché L1 e L2 sono consecutivi. Ovviamente da questa poi otteniamo una formula inversa per trovare ciascun lato, quindi per trovare il lato 1 vado a fare perimetro diviso 2 meno l'altro lato. Oppure posso fare lato 1 uguale perimetro meno 2 volte il lato 2, quello che ottengo diviso 2. Scegliete voi quale preferite. Stessa cosa per trovare il lato 2 posso fare il perimetro lo divido a metà perché dividendolo a metà ottengo due lati e poi quello che ho ottenuto gli vado poi a sottrarre il lato 1. Oppure lato 2 uguale il perimetro meno il doppio dell'altro lato e poi quello che ottengo diviso 2. Scegliete voi anche in questo caso. L'importante è sapere la formula diretta perché poi quelle inverse ve le ricavate con il ragionamento. Andiamo a fare qualche esempio con qualche piccolo problema riguardante il parallelogramma. Andiamo a fare un primo problema. Vi ricordo sempre di farli in modo preciso scrivere i dati, fare la figura, la richiesta, le unità di misura, le formule e tutto quanto in modo preciso e accurato e la figura con il righello. Quindi prendiamo il nostro parallelogramma e andiamo a scrivere i dati. Sappiamo che uno dei lati del parallelogramma misura 8 cm e sappiamo che l'altro lato suo consecutivo è più piccolo di lui quindi differisce da questo lato di 2 cm quindi è il lato 1 meno 2 cm quindi la differenza è 2 cm. Calcolare il perimetro e la misura di ciascun lato. Quindi questa è la nostra richiesta. Come facciamo? Noi sappiamo che la formula per calcolare il perimetro è questa. La somma dei due lati poi la vado a moltiplicare per 2. La potete scrivere anche in questo modo il doppio del lato 1 più il doppio del lato 2 come preferite tanto è la stessa cosa. Allora so che devo andarmi a calcolare il lato 1 e il lato 2. Il lato 1 ce l'ho perché me l'ha dato il problema. Il lato 2 me lo devo ricavare. quindi vado a fare il lato 2 uguale prima scrivo l'indicazione lato 2 meno lato 1 meno 2 cm uguale 8 meno 2 cm uguale 6 cm. ho trovato anche il lato 2. A questo punto vado a calcolarmi il perimetro scrivo prima l'indicazione lato 1 più lato 2 per 2 quindi a protonda 8 più 6 per 2 14 per 2 fa 28 cm e abbiamo calcolato il perimetro del nostro parallelogramma. Andiamo adesso a risolvere un altro problema sul parallelogramma un problema un pochino più elaborato perché andiamo a tirare in ballo anche le frazioni perché le frazioni le troverete spesso se non sempre nei problemi di geometria da adesso in poi. Quindi andiamo a mettere lato 1 uguale 45 cm e il lato 2 è 2 quinti del lato 1. Vogliamo sapere quanto misura il perimetro. Allora andiamo a calcolare la misura del lato 2 perché sappiamo che ci serve sia il lato 1 che il lato 2 quindi il lato 2 uguale 2 quinti di 45. 2 quinti di 45 vuol dire 45 lo divido in 5 parti uguali quello che ottengo lo moltiplico per 2. Vi ricordo che la parentesi non serve perché divisione e moltiplicazione hanno la stessa priorità quindi devo farle in ordine così come sono scritte. 45 diviso 5 fa 9 per 2 fa 18 cm. Mi raccomando il per 2 lo dovete riportare ad ogni passaggio. Adesso che abbiamo trovato la misura di entrambi i lati posso andare a calcolare il perimetro perimetro uguale lato 1 più lato 2 chiusa tonda per 2 quindi 45 più 18 per 2 63 per 2 che fa 126 cm. andiamo adesso a calcolare invece la misura dei lati conoscendo il perimetro quindi andiamo a fare un ultimo problema sul parallelogramma e sappiamo che i lati consecutivi sono uno il triplo dell'altro quindi lato 1 è il triplo 3x il triplo del lato 2 e sappiamo che il perimetro misura 80 cm calcolare la misura di ogni lato non ve l'ho detto però come sempre vi consiglio di risolvere problemi insieme a me durante le lezioni allora noi sappiamo che un lato è il triplo dell'altro quindi con i segmentini noi sappiamo che un lato è così e l'altro lato è il suo triplo quindi questo è il lato 1 e questo è il lato 2 anche sulla figura possiamo andare a dividere in parti quindi facciamolo con un colore almeno si vede bene andiamo a dividere in una due e tre parti questo lato e questo una quindi il disegno non è preciso andiamo a fare un disegno preciso quindi andiamo a fare un parallelogramma che ha i lati uno il triplo dell'altro che quando avete queste informazioni dovete fare i lati in modo preciso quindi abcd questo è il lato 1 e questo è il lato 2 io prima avevo copiato la figura dell'altro problema quindi andate a dividere in tre parti questo e il lato obliquo è un terzo di questo quindi in tutto abbiamo in tutto il perimetro abbiamo tre parti qui tre parti qui una qui una qui in tutto abbiamo otto pezzi pezzetti allora questo problema si può risolvere in due modi o considerando il fatto che tutto il perimetro è diviso in otto parti oppure considerando il fatto che un lato più l'altro sono in tutto quattro parti però in questo caso mi serve dimezzare il perimetro allora vi faccio vedere entrambi i modi il primo modo facciamo questo qui con i segmentini l1 e l2 quindi l1 tre pezzetti l2 un pezzetto per risolvere questo tipo di problemi sappiamo che ci serve o la somma o la differenza allora per conoscere la somma devo andare a fare perimetro diviso 2 perché metà perimetro è la somma di due lati quindi per primo modo faccio così faccio somma uguale lato 1 più lato 2 uguale perimetro diviso 2 uguale 80 diviso 2 40 centimetri a questo punto so che la somma è 40 centimetri vado a calcolarmi un pezzetto facendo 40 diviso 4 che fa 10 centimetri quindi ogni pezzetto vale 10 centimetri ma allora lato 1 vale un pezzetto per 3 quindi 30 centimetri e lato 2 vale un pezzetto per 1 quindi 10 centimetri quindi questo è il primo modo per risolvere il problema vi faccio vedere adesso il secondo modo che è quello di considerare tutto il perimetro diviso in parti quindi quello che vi facevo vedere prima tutto il perimetro qua è diviso in 8 parti uguali ma tutte queste 8 parti uguali insieme valgono 80 centimetri perché è tutto il perimetro quindi il secondo modo eccolo qui il valore di un pezzetto è il perimetro diviso 8 quindi 80 diviso 8 che fa 10 centimetri il lato 1 è un pezzetto quindi il lato 2 scusate 3 pezzetti quindi 10 per 3 30 centimetri il lato 2 invece è un pezzetto quindi di 10 centimetri quindi questo è il secondo modo in generale questo metodo vale anche per il rettangolo ad esempio che ha anche lui i lati congruenti a coppie e quindi o dividete a metà il perimetro e poi considerate i segmentini oppure dividete in parti tutto il perimetro e poi trovate il valore del pezzettino abbiamo concluso questa seconda e ultima lezione sul parallelogramma ciao Grazie a tutti.